spero che mi sentiate. Dicevo, benvenuti a tutti e come sapete appunto oggi si terrà questo evento a scala regionale, mentre domani alle 5 ci sarà la cerimonia conclusiva nazionale del premio Asimov. Dunque, i veri protagonisti di oggi sono i ragazzi, 16 ragazzi che sono stati prescelti diciamo a livello regionale come vincitori, però in generale i protagonisti sono tutti i ragazzi che hanno partecipato all'edizione di quest'anno del premio Asimov. Dunque, noi pensavamo appunto con Giovanni di procedere in questa maniera. Io dirò due parole sul premio, soprattutto su come si è evoluto nel corso degli anni, poi passerò la parola a Giovanni che parlerà un pochettino dell'INFN che è il principale INFN che contribuisce alla realizzazione del premio. Dopodiché, come dicevo, siccome i protagonisti sono i ragazzi, cederei la parola a loro. Vedo che appunto c'è qualche... Buongiorno! Dirigente, ciao Tiziana! Ciao! E naturalmente sono tutti invitati a intervenire. Ecco, scusate, solo una breve interruzione. Tiziana, tu hai problemi poi di orario per cui preferisci dire due parole subito? Sì, perché io poi alle 5 meno un quarto, 5 meno 20, devo entrare in un'altra mia cosa. Allora magari, scusate, altero un attimo la scaletta, lascio la parola a Tiziana Montemarani che rappresenta l'ufficio scolastico regionale. Quindi le cedo la parola visto che poi lei ha dell'impegno. Intanto grazie di essere qui con noi, Tiziana. Grazie a voi. Grazie. Intanto ringrazio l'organizzazione che per tutti questi mesi ci ha tenuto al corrente dello stato dell'arte di questo premio di livello nazionale, ma non solo, che ha coinvolto tante scuole e ha coinvolto anche le scuole della Liguria. Io porto i saluti del dottor Clavarino, il dirigente dell'ufficio terzo, che per impegni istituzionali non può essere qua. Comunque manda i saluti e ringrazia Silvano sempre per la sua precisione, proprio nel tenerci aggiornati di tutto quello che avviene per quanto riguarda questo premio. Un grazie particolare ai ragazzi, che sono loro i protagonisti di questo premio, che con i loro lavori hanno fatto vedere che nella scuola, la scuola ormai, la scuola italiana è la scuola delle competenze, si studia proprio i contenuti disciplinari, sono gli strumenti per fare in modo che i ragazzi diventino abili e l'hanno dimostrato, e competenti, competenti che nei vari contesti di vita e di lavoro scolastico e non solo. Ringrazio i professori, i docenti che li hanno accompagnati come facilitatori comunque, perché il compito del docente rimane essenziale come facilitatore dell'apprendimento, quindi questo processo continuo di insegnamento e apprendimento. Faccio logicamente complimenti a tutti per la partecipazione, ringrazio i dirigenti scolastici che hanno permesso la partecipazione e se non ricordo male faccio complimenti particolari alla rappresentanza del VSE. Silvano, se non ricordo male, è la studentessa del VSE, che è la studentessa, anzi mi piacerebbe sentire le sue parole a caldo, dopodiché io ascolterò ancora qualcosa e poi vi lascerò, ma rimarrò, diciamo così, la mia presenza morale c'è per tutto il vostro intervento. Grazie. Bene, grazie a te Tiziana, grazie a Sandro Clavarino, che tra l'altro mi ha scritto appunto scusandosi per l'impossibilità di partecipare, però come sempre l'ufficio scolastico ci dà una mano. Dunque, io come dicevo, volevo dire due parole sul premio Asimov, è chiaro che voi che siete qui sapete già che cos'è, però molto brevemente avevo preparato qualche slide, sarò piuttosto rapido, vediamo se riesco. Allora, dovreste vederle, no? Mi confermate che vedete le slide? Sì, sì, le vediamo, io le vedo. Allora, come sapete, il premio Asimov è strutturato in questo modo, no? C'è una commissione scientifica che è costituita da ricercatori, docenti, divulgatori, tra l'altro i docenti delle scuole che partecipano poi automaticamente fanno parte anche di questa commissione e il compito di questa commissione è selezionare i cinque libri finalisti, quindi si prendono in considerazione i libri di divulgazione scientifica pubblicati negli ultimi anni e si individua la famosa cinquina finalista. Come sapete quest'anno la cinquina è costituita da questi cinque libri, il frigorifero di Einstein, la sfrontata bellezza del cosmo, la malattia da dieci centesimi, breve storia delle pseudoscienze e il bestiario matematico. A questo punto la parola passa ai giurati veri e propri, cioè gli studenti delle scuole superiori che aderiscono al premio, i quali si scelgono uno o più libri, se lo leggono, lo valutano e scrivono una recensione. Le recensioni a loro volta vengono valutate dalla commissione scientifica e questo determina appunto la classifica degli studenti sia a livello nazionale sia a livello regionale. Il premio Asimov è sostenuto da tanti enti, io li faccio vedere, non mi metto a leggere tutti perché immagino che diventerebbe una cosa piuttosto noiosa. Comunque ho già citato l'INFN, più tanti altri enti, dipartimenti universitari di varie università italiane. Ci tengo a ricordare l'Associazione Nazionale Librai che tra l'altro ci dà una mano anche su vari fronti. Tramite l'Associazione Nazionale dei Librai sarà possibile la nostra partecipazione anche al Salone del Libro di Torino. Comunque poi accenderò più nei dettagli. Ci sono tanti enti patrocinatori, li vedete anche qui, non mi metto a leggere di tutti, ma sono veramente numerosi. Qui ci sono i loghi di alcuni di essi. Quello che mi premeva sottolineare è il ruolo poi importantissimo avuto da Francesco Vissani. Francesco Vissani è l'ideatore del premio, lui è dirigente di ricerca presso i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN ed è il principale fautore del premio perché non solo se l'è inventato nel 2016, ma ogni anno come sempre dà grossissimi contributi proprio a livello personale affinché il tutto funzioni. Quindi voglio esprimere a livello personale un grosso grazie a Francesco che è veramente una persona insostituibile. Dicevo che il premio è nato appunto su iniziativa di Francesco nel 2016 e i numeri che via via si sono sviluppati sono veramente importanti perché per fare riferimento alle edizioni di quest'anno si sono avute ben 17 regioni partecipanti, 154 le città coinvolte, l'anno scorso erano 126, 272 le scuole che hanno aderito, l'anno scorso appunto erano 238, quindi c'è un continuo aumento dei numeri, sono ben 700 i professori che a livello nazionale hanno partecipato e il numero degli studenti registrati è veramente straordinario perché quest'anno abbiamo superato quota 12.000, l'anno scorso eravamo a 11.000 rotti. Dicevo che il premio nel corso degli anni appunto a iniziare dal 2016 ha avuto una crescita veramente impressionante. Questa slide vi fa vedere come dalla prima edizione del 2016 che era sostanzialmente limitata soltanto alla regione Abruzzo, c'è stato un progressivo aumento veramente vertiginoso. Il numero degli studenti nel 2016 era 200, siamo arrivati a oltre 12.000, quindi questo ci fa piacere chiaramente ci incoraggia nell'andare avanti e ci conforta il fatto appunto che le risposte da parte delle scuole, degli studenti, dei docenti siano sempre positive, quindi vuol dire che questo tipo di attività è gradito e questo ovviamente non ci può che fare piacere. Le scuole della Liguria che quest'anno hanno aderito sono state sei quelle iscritte, di fatto poi le partecipanti sono state cinque, perché una scuola sei iscritta ma poi non ha presentato di fatto studenti. Tra l'altro come regione Liguria abbiamo ospitato anche una scuola veneta, in quanto attualmente in Veneto non c'era ancora diciamo un referente regionale. In Liguria sono stati 128 gli studenti che hanno redatto diciamo le loro recensioni e le hanno correttamente caricate sul sito. Tutte queste recensioni hanno superato il controllo antiplagio, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare perché ovviamente per evitare che qualche furbetto diciamo la faccia franca, le recensioni vengono sottoposte a un software in grado di evidenziare eventuali plagi, cioè se la recensione fosse copiata da internet o pezzi di essa fossero comunque scopiazzati, questo software se ne accorge. I nostri studenti Liguri sono stati assolutamente onesti perché nessuno di loro è incappato diciamo nella censura dell'antiplagio. E dicevo che noi abbiamo selezionato 16 vincitori a livello regionale. La scelta si basa appunto sulle valutazioni che la commissione dà. Tengo a sottolineare che i criteri adottati appunto in questa valutazione fanno sì che i docenti e diciamo i commissari della regione non valutino i propri studenti, cioè vengono valutati quelli delle altre regioni. Quindi i ragazzi Liguri sono stati valutati da commissari di altre regioni. Questo proprio per evitare favoritismi e per garantire così una valutazione più equa, più imparziale. E a questo punto io passo appunto a illustrare quali sono le scuole. Partiamo da Ponente, abbiamo il liceo Aprose di Ventimiglia, il liceo Viesse di Imperia, il liceo Raziograsse di Savona, l'Istituto Omnicomprensivo della Valle Scrivia ex Primo Levi di Roncoscrivia. Poi c'è la Scuola Veneta di cui accennavo prima, quindi l'Istituto Superiore Majorana Corner di Mirano, provincia di Venezia. E infine c'era stato l'Istituto Enrico Fermi Montale di Ventimiglia che però poi non ha presentato nessuno studente, quindi risultava iscritto ma di fatto poi non ha partecipato. E a questo punto appunto passo a illustrare i vincitori che sono in buona parte presenti quest'oggi. Seguendo l'ordine di prima abbiamo due vincitori del liceo Aproseo che sono Gusacca Mattias e Salvetti Monica che hanno recensito il libro di Marco Ciardi, Breve Storia delle Pseudoscienze. Poi il liceo VSE che come diceva ha fatto veramente man bassa, nel senso che ha partecipato con un nutritissimo numero di studenti, erano 54 si ricordo bene, e ben 10 di essi sono risultati vincitori. In particolare abbiamo Carrera Giulia che ha recensito il frigorifero di Einstein, Daca Angela che ha recensito la malattia da 10 centesimi, Fusco Valentina che ha recensito bestiario matematico, poi Giaminola Manuele, spero di pronunciare con l'accento giusto, che ha recensito Breve Storia delle Pseudoscienze, Naclerio Camilla, bestiario matematico, Novella Lorenzo, frigorifero di Einstein, Pulinetta Aurora, bestiario matematico, Ramolino Leonora, Breve Storia delle Pseudoscienze, Repola o Repola, non so come si pronunci, la sfrontata bellezza del cosmo e Risoanna, la malattia da 10 centesimi. Passando alle altre scuole abbiamo per il liceo Orazio Grassi di Savona, Apicella Matilda e Avondoglio Luca che hanno entrambi recensito il libro La sfrontata bellezza del cosmo, poi l'Istituto Omni Comprensivo della Valle Scrivia con Giulia Quaglia che ha recensito La sfrontata bellezza del cosmo e infine l'Istituto Superiore Magliorana Corner di Mirano, provincia di Venezia, con lo studente Scaggiante Gabriele che ha recensito bestiario matematico. Ovviamente a tutti questi ragazzi vanno i miei complimenti, siete stati veramente bravi, avete fatto delle recensioni che hanno ottenuto delle ottime valutazioni. Ovviamente i complimenti poi vanno estesi a tutti i partecipanti perché come sempre l'importante è partecipare, poi è chiaro che vincere una competizione è sempre gratificante, però la cosa bella penso che sia partecipare, leggere i libri soprattutto, perché lo scopo di questo premio è proprio avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso i libri di divulgazione. L'obiettivo principale è questo. Ricordo appunto l'evento di domani, come ho già annunciato prima, alle 17 ci sarà la cerimonia nazionale alla quale parteciperanno studenti delle varie regioni. Ho mandato stamattina la scaletta dell'evento nazionale, ci sarà una serie di pavole rotonde sui cinque libri finalisti dove i ragazzi appunto potranno intervenire coordinati appunto da un moderatore. Magari se spegnete i microfoni è meglio. Potete ottenere altre informazioni più dettagliate sul sito del premio e ricordo infine appunto come accennavo prima che il 20 maggio il premio parteciperà al Salone del Libro di Torino. Qui trovate le indicazioni anche sullo stand. Quindi spero che qualcuno di voi magari che visiti il Salone del Libro ci venga a trovare così facciamo quattro chiacchiere in presenza. Come dicevamo prima con Giovanni, quest'anno abbiamo optato ancora una volta per fare un evento online perché farlo in presenza diventava un po' complicato anche perché fino all'ultimo non si sapeva bene come si sarebbero evolute le cose riguardo alla pandemia. Speriamo che l'anno prossimo si riesca finalmente a fare qualche cosa in presenza. Quest'anno l'unica cosa in presenza appunto sarà l'evento di Torino. Qualche regione coraggiosamente è riuscita all'ultimo momento a organizzare la cerimonia regionale in presenza. In Liguria come dicevo c'era qualche difficoltà. Quindi io aggiungo semplicemente il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, quindi principalmente gli studenti, i docenti che li hanno seguiti, i dirigenti scolastici che hanno ovviamente supportato questa attività. A questo punto quindi grazie a tutti io cedo la parola Giovanni. Poi naturalmente se ci sono colleghi, c'è appunto visto un dirigente, non so se nel frattempo se ne sono aggiunti altri, invito tutti a partecipare e quindi niente, grazie e procediamo con gli interventi. Grazie Silvano. Allora io condivido se posso, se non c'è qualche altro dirigente che ha magari la necessità di parlare subito perché poi magari ha qualche altro impegno, se no vado io, io farò una brevissima presentazione come vi diceva Silvano sul INFN. Vedete il mio schermo? Sì. Ok, allora sarò velocissimo. Io sono Giovanni Gallucci, sono un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, della sezione di Genova. Allora gli INFN è un ente pubblico di ricerca che ha una storia molto prestigiosa, nasce nel 51 e se volete nasce proprio da quel gruppo di fermi, dei ragazzi di Vapa di Sperna che hanno dato in qualche maniera il via, se vogliamo, alla fisica nucleare in Italia. Quali sono, qual è la missione degli INFN? Vedete, sono fondamentalmente tre missioni. Innanzitutto quella chiaramente la ricerca, quindi di spingersi, come dice giustamente la slide, oltre le frontiere della conoscenza. Poi sono altre due missioni che non sono assolutamente inferiori, cioè quella di sviluppare nuove tecnologie e quella di formare gli scienziati e gli ingegneri e tutto quel personale che è i tecnici che lavoreranno, che servono appunto per far funzionare l'ente, ma per far funzionare la ricerca in generale. Scusate. L'INFN ha cinque linee di ricerca che corrispondono a cinque commissioni scientifiche nazionali. Come potete vedere si occupa di fisica subnucleare, di fisica subnucleare ma nello spazio, quindi astroparticelle, di fisica nucleare, quindi legata strettamente al nucleo, fisica teorica e poi la ricerca tecnologica. L'INFN è fondato a 20 sezioni, sparse per tutta la penisola, quattro laboratori nazionali di cui magari alcuni li avete sentiti parlare, in particolare ad esempio quelli del Gran Sasso, ma ci sono anche laboratori di Frascati, di Legnaro e anche laboratori del sud dove si studia ad esempio l'adroterapia, cioè l'applicazione della fisica delle particelle alla medicina. Ci sono anche dei gruppi associati, dei centri nazionali e un consonso internazionale. Come vi dicevo, quindi questi quattro laboratori nazionali, li vedete, sono sulla mappa, quindi sparsi per tutta l'Italia, dal nord al sud, come tutte le sezioni, tre centri nazionali, in particolare ad esempio il CNAF, è un centro nazionale che raccoglie tutta la componente informatica dell'INFN, cioè ci sono tanti server, tanti computer che servono fondamentalmente a parte a gestire l'ente, ma a fare tutti quei calcoli che nella ricerca scientifica sono fondamentali. Il consorzio internazionale invece, magari anche questo qualcuno di voi ha avuto modo di sentirne parlare, è Virgo, che si trova in provincia di Pisa e che si occupa di, è un esperimento che misura le onde gravitazionali. L'INFN ha un DNA internazionale in che senso? Nel senso che ha fortissime collaborazioni con tutti gli scienziati del mondo. Come potete vedere dalla cartina, fondamentalmente le collaborazioni dell'INFN spaziano in tutti i continenti, praticamente, tranne diciamo l'Africa che è ancora un pochino, soffre un pochino di problemi per la ricerca scientifica, però per il resto vedete siamo coinvolti con collaborazioni internazionali. De quante persone è fatto l'INFN? Siamo circa 6.000 persone. Abbiamo una comunità di 6.000 tra scienziati, tecnici, amministrativi e tutto ciò di cui c'è necessità per far andare avanti l'ente, ma è importante sapere anche che il 25% di queste persone sono persone molto giovani, quindi borse di studio, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca, che quindi sono all'inizio della loro, si spera, futura carriera nella ricerca. La cosa importante da non trascurare, l'INFN fa ricerca di base, ma come vi ho detto una delle missioni è anche la tecnologia e quindi anche il trasferimento della conoscenza per avere sviluppi in altri campi che non sono direttamente studiati all'INFN, come ad esempio l'ambiente, le applicazioni industriali, la biologia e via dicendo. La medicina, come vi dicevo ad esempio, nei laboratori del sud. Qui ad esempio c'è proprio un'immagine dei laboratori del sud e qui si vede appunto l'applicazione della conoscenza di come funzionano le particelle ad un'applicazione medica, quindi l'adroterapia, cioè la cura dei tumori attraverso l'utilizzo di questi fasci di particelle. E non ultimo, importante appunto è anche la divulgazione per il nostro ente, come siamo qui anche per questo, fondamentalmente missione importante per noi ente scientifico ed ente pubblico è quello di divulgare fra i giovani la scienza e quindi di far appassionare quanto più possibile di voi a questa materia. Io avrei finito e quindi ripasso la parola a Silvano. Perfetto, grazie Giovanni per questa presentazione, sicuramente interessante. Dunque, io a questo punto chiedo liberamente da chi vuole intervenire, non so, c'era il dirigente del VSE, magari vuol dire due parole. C'è ancora? Non lo trovo. Sì, sì, ci sono. Ecco, professor, se vuole dire qualcosa a lei, volentieri sì. Io mi associo ai ringraziamenti che già ha espresso il professor Fuso, a tutti quanti hanno collaborato alla buona riuscita del progetto che appunto sta crescendo di anno in anno e questo è un sintomo di gradimento e di soddisfazione per tutti. Poi lascerei la parola ai docenti che hanno seguito più direttamente i ragazzi, ne ho qualcuno collegato se volessero dire due parole e aprire anche così la strada all'intervento dei ragazzi che in fondo siamo qui per loro e sono loro i protagonisti. Esatto. Prego. Grazie. C'è qualche collega che vuole intervenire? Poi sentiamo i ragazzi. Coraggio. Ma allora dico due parole. Io sono la professoressa Berio, mi sono occupata dei ragazzi degli ESSE, i ragazzi numerosissimi. Niente, io posso soltanto ringraziare questi ragazzi che con tanto entusiasmo quest'anno hanno partecipato. Sono stati veramente molto volenterosi e hanno dimostrato un interesse anche al di là di quello che si potesse sospettare. Io sono una letterata, quindi ho difficoltà a seguire anche la proprio gli aspetti tecnici e per questa ragione ci siamo anche avvalsi del dell'appoggio di altri colleghi che in questo momento forse non possono essere collegati per per impegni concomitanti. Credo che ci sia il professor Vaccaro che penso che sia presente e lui sicuramente può dire qualcosa di più sull'aspetto puramente tecnico del premio. Io ringrazio ancora i ragazzi e veramente faccio loro i complimenti per i risultati ottenuti. Grazie. Se c'è il professor Vaccaro che vuole intervenire. Mi associo e condivido assolutamente ciò che è stato detto. Rinnovo i complimenti ai ragazzi. In effetti si nota interesse e partecipazione. Credo proprio che sia sottolineare uno dei punti di forza di questo premio che è la divulgazione che è diciamo la creazione dell'effetto wow davanti alla scienza. Cioè quell'apertura, quella fuoriuscita dallo schema rigido, didattico, faticoso, perché poi il lavoro dello scienziato nella ricerca è un lavoro faticoso e anche il lavoro dello studente al liceo quando si scontra con matematica, fisica, chimica è faticoso. Questo premio e la lettura di questi libri danno possibilità appunto di apertura e di freschezza ecco e di alleggerimento di quella fatica che come posso dire danno un po' di qualità alla visione puramente quantitativa scientifica. Ecco e quindi penso che sia appunto i dati dimostrano che è apprezzato e penso che sia una ricchezza assolutamente da portare avanti e con entusiasmo come sta succedendo. Bene, grazie. Lo dicevamo appunto, lo scopo è proprio quello di avvicinare i ragazzi alla scienza e una cosa che a me fa piacere è che siano stati coinvolti anche colleghi di materie letterarie, perché è un po' l'ora di finirla di questa separazione fra cultura scientifica e cultura umanistica. Cioè io sono un sostenitore dell'unica cultura, cioè la cultura è solo una. Poi chiaramente ci sono vari ambiti, varie specializzazioni, però è giusto far capire ai ragazzi proprio questa unità della cultura, che è importante proprio per evitare di farli crescere con così artificiose divisioni che non hanno nessuna ragione di essere. Vedo una mano alzata a Roberto Marzato. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, scusate, ho sbagliato. Niente, io sono un docente del liceo Majorana, quindi sono un ospite, come ha detto il professor Fuso prima, che volevo ringraziare appunto per l'ospitalità che ci avete dato e l'opportunità che ci avete dato. Volevo anche ringraziare il professor Vissani perché effettivamente da parte nostra c'è stata un'adesione all'ultimo, nel senso che abbiamo aderito veramente negli ultimi, nell'ultimo periodo e grazie proprio all'interessamento del professor Vissani in tempo reale, praticamente ci scambiavamo le mail alle sette di mattina e del professor Fuso siamo riusciti ad iscrivere una decina di ragazzi perché dal nostro liceo abbiamo provato con una classe assieme alla professoressa Tasso che mi pare di vedere, sì, è qui con noi, che è la loro docente di italiano e latino, io sono invece docente di matematica e fisica. Abbiamo colto così questa opportunità per quest'anno, è stata un'opportunità molto interessante, i ragazzi si sono divertiti, abbiamo avuto anche la fortuna di avere un nostro studente tra i segnalati, a cui faccio i miei personali complimenti, ma faccio i complimenti a tutti i ragazzi ovviamente del nostro liceo e di tutti gli altri licei e da parte nostra c'è anche un po' l'ospicio che questa sia una nascita di un'attività che si allarga a macchia d'olio anche dentro il nostro liceo, insomma proprio per tutte le motivazioni che avete detto finora. Non so se prossimo anno avremo un referente regionale e se non ce ne avessimo crederemo ancora l'ospitalità alla vostra bella Liguria. Grazie ancora. Bene, grazie a lei e grazie per aver partecipato, naturalmente noi siamo sempre disponibili ad ospitarvi, però spero anch'io che dalla prossima edizione anche il Veneto abbia un suo referente. C'è qualche altro collega che vuole intervenire? Vedo per esempio la collega Germana Gozzi, vuoi dire qualcosa? Eccomi sì, ciao, grazie. Ciao, ciao. Vedo scusa per il ritardo, ma purtroppo... Assolutamente, tranquilla. ...d'arrivare prima. Io immagino che avrete già detto tutto quello che c'era da dire, io sono molto soddisfatta anche della partecipazione dei nostri studenti quest'anno, nel secondo anno che abbiamo aderito a questa ottima iniziativa, perché ci ha permesso di far, come dire, toccare con mano ai ragazzi anche un certo tipo di letteratura che altrimenti loro non... difficilmente, quantomeno, insomma. I miei magari sì, perché io normalmente do sempre da leggere un libro durante l'estate a carattere a carattere scientifico, però normalmente questo non accade. Invece questo impegno è stato è stato di nuovo, anche quest'anno preso molto sul serio, noi lo abbiamo proposto a due classi terze del liceo scientifico e abbiamo di nuovo ottenuto una... grandi soddisfazioni, così come era già successo l'anno scorso, quindi questo ci sprona ancora di più ad andare avanti. Grazie mille a Silvano perché fa sempre un lavoro incredibile di tessitura, no? Di informazioni, di preparazione, che è estremamente prezioso per tutti. Basta, non occupo più altro tempo. Grazie, complimenti ai miei studenti e a tutti gli studenti che hanno in qualche modo partecipato e ottenuto menzioni particolari. Grazie mille. Bene, grazie Giovanna sia per l'intervento sia per la partecipazione. Ma io non faccio niente di straordinario, cerco semplicemente di trasmettere le informazioni e di tenere i collegamenti, quindi nulla di particolare. Dunque, c'è ancora qualche docente? Mi pare Anna Rita, vuoi dire qualcosa anche tu? Ma io ringrazio sicuramente te Silvano perché ci aiuti in questa difficile opera di gestione di questo premio che è bellissimo. Anch'io concordo con tutti i colleghi perché riesce in qualche modo ad avvicinare, ad appassionare i ragazzi al mondo della fisica, della scienza, della biologia, che a volte possono risultare ostici, difficili. Invece leggendo un libro di divulgazione scientifica si appassionano molto. E noi nell'istituto, oltre per esempio al premio Asimov, che cerchiamo di portare avanti grazie al tuo aiuto, sinceramente, e partecipiamo per esempio anche al progetto Arte Scienze dell'INFN, proprio per cercare di far interessare, di far appassionare, anche con una visione diversa, che non fosse proprio quella scientifica, matematica, fatta di formule, i ragazzi e le scienze. E poi veramente io devo fare i complimenti ai ragazzi perché ovviamente come tutti abbiamo letto tutte le recensioni dei ragazzi e io mi trovavo un po' in difficoltà perché veramente una per l'altra erano veramente interessanti, carine, centrate. Cioè io sono fisica quindi non amo molto scrivere, però i ragazzi invece sono stati veramente bravi. era difficile dare delle valutazioni perché una per l'altra erano veramente molto molto interessanti e originali anche. Ora noi abbiamo partecipato con un ristretto gruppo di ragazzi, l'anno scorso forse eravamo un po' di più, con delle classi quarte e delle classi quinte, però ovviamente abbiamo anche noi avuto una ragazza che ha vinto, purtroppo non può esserci oggi, però insomma vi ringraziamo davvero, grazie a tutti per il lavoro che fate. Bene, grazie a te Anna Rita. Ecco, condivido anche io quello che dicevi, perché io ho letto tante recensioni e devo dire ho trovato veramente un livello qualitativo ottimo, per cui era effettivamente difficile differenziare le valutazioni. Quindi questo va sicuramente a merito di tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché il livello veramente era mediamente molto soddisfacente. Bene, allora mi pare che forse abbiamo esaurito gli interventi dei docenti, mi pare, se non mi sfugge qualcuno mi pare che non ce ne siano altri. E niente, a questo punto lasciamo la parola ai ragazzi. Ora, non è un'interrogazione ragazzi, per cui interviene chi vuole. Io non voglio forzare nessuno, però ci farebbe molto piacere sentire qualche vostro intervento, così, sull'esperienza che avete avuto, sul libro che avete letto e recensito. Quindi, chi è che se la sente di rompere il ghiaccio? Coraggio. Ci si butta. C'è sempre un po' di resistenza iniziale, ma poi si supera. Dai, mi rivolgo ai ragazzi del VSE, visto che voi avete veramente fatto strage, chi è che del VSE se la sente di intervenire? E buongiorno, io adesso sono in gita, quindi mi sa che ci sarà un po' di frasuono. Però volevo solo dire che, cioè, io generalmente non mi sarei mai approcciato al libro sulla matematica, però, cioè, con questo concorso ho fatto questo esperimento e mi è piaciuto. Niente, buono. Grafica, ma efficace. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Qualcun altro? Coraggio. Allora, io innanzitutto sono, appunto, estremamente grata di, appunto, poter rappresentare anche la Liguria per il risultato, appunto, ottenuto. E io, personalmente, ho letto la malattia da dieci centesimi di Anise Collino. E ho scelto la lettura per un puro interesse personale nei confronti della materia, che era già, appunto, presente prima della lettura. Ma ho trovato la lettura estremamente interessante, nonostante il linguaggio talvolta tecnico, forse tanto, molto tecnico. E quindi ho dovuto, appunto, anche andare a documentarmi, cercare informazioni, però è stato molto interessante, anche per l'argomento trattato, che è, appunto, sempre attuale, l'argomento delle vaccinazioni. E poi, in generale, mi sono sentita molto partecipa, appunto, del dibattito scientifico raccontato nel libro. Grazie. Ecco, mi sentite adesso? Sì, sì, sì. Ecco, perché mi si era bloccato il microfono, non so come mai. Dicevo, grazie Anna per l'intervento, complimenti, appunto, perché tu sei stata prescelta poi per rappresentare la Liguria, quindi un particolare titolo di merito, perché la tua recensione era veramente bella, senza voler sminuire, ovviamente, quella degli altri. Allora, intanto salutiamo Tiziana, vedo che ha mandato un messaggio in chat che deve lasciarci. E grazie ancora, Tiziana, per l'intervento. C'è qualche altro ragazzo o ragazza che vuole intervenire? Forza, ragazzi. C'è qualche ragazzo che, diciamo, adesso, se ho capito, molti di voi sono al terzo anno, quindi ancora hanno davanti un pochino di scuola prima di chi vorrà poi continuare con l'università. C'è qualcuno di voi che ha cambiato idea o comunque si è fatto un'idea dopo aver letto uno di questi libri e quindi ha nella mente, magari adesso, di intraprendere degli studi scientifici in futuro. Sono timidi questi ragazzi, non interveniamo. O lo volevano tutti già fare o nessuno ha cambiato idea. In terza sono ancora molto lontani dalla scelta definitiva, dalla scelta post-diploma. Ma mancano due anni. Sì, forse è un po' più. Certamente un contributo, come dire, anche di chiarimento in chiave di orientamento. Queste attività ampliate, scientifiche, lo danno, perché consentono di esplorare un mondo che loro conoscono soltanto attraverso gli esercizi, gli eserciziari dei libri. Mentre così gli si dice che esiste effettivamente una dimensione del sapere e anche della vita e anche del lavoro che può essere ricondotta a tutte queste belle materie che loro al liceo o amano o odiano, ma è sempre in una dimensione molto limitata. Quindi certamente un contributo di allargamento degli orizzonti c'è. Poi sì, effettivamente sono in terza e qualcuno in quarta, ma sono ancora lontani dalla scelta. Quindi prima di sbilanciarsi temo che ci ripensino ancora almeno una dozzina di volte. Sì, sì, come giusto, ma magari qualcuno aveva avuto, come si dice, l'illuminazione sulla via di Damasco. Sì, sì, a volte capire, ci sono quelli proprio che già hanno le idee chiare per cui vedono la loro strada già delineata. Sono pochi, però ogni tanto qualcuno c'è. Allora, rilancio l'invito ai ragazzi. Dai, diteci qualche cosa su come avete trovato la partecipazione al premio, insomma, se vi siete divertiti, se la lettura del libro vi ha appassionato, se vi ha annoiato, può anche succedere questo, no? Come l'avete scelto, tra i cinque anche. Esatto, con quale criterio avete seguito per scegliere il libro. Dai, siamo curiosi, quindi diteci qualcosa, ragazzi. Io volevo prendere la parola. Ciao Gabriele, sì. La webcam non ho riuscito ad attivare, così ci vediamo, ma non faccio. No, so che la maggior parte qui non è abituato ad utilizzare Zoom, quindi è probabile che ci siano molti problemi di quel tipo. Vabbè, non fa niente, tanto vi sentiamo, dai. Sì, io ho scelto il libro Bestiario matematico di Paolo Alessandrini e sostanzialmente la mia scelta è ricaduta su questo test in quanto mi sentivo appunto di affrontarlo, perché sostanzialmente la disciplina che preferisco studiare a scuola è la matematica e dunque anche confrontandomi con i miei compagni ho notato come, insomma, la loro materia preferita andasse a influenzare di molto la scelta. E la trovo anche una cosa positiva, però sarebbe anche interessante magari spingersi un po' fuori dalla propria zona di comfort e quindi magari anche vedere un po' qualcosa di nuovo perché potrebbe sempre dare degli stimoli interessanti. Anche se devo dire che nel mio caso particolare questo libro è stato comunque molto molto interessante in quanto sostanzialmente tutti i testi che ci avete proposto fornivano, come possiamo dire, davano la possibilità di ampliare le nostre conoscenze anche in modo molto molto interessante. Ad esempio nel Bestiario matematico vengono citati numerosi concetti matematici anche piuttosto avanzati però in modo comprensibile anche per degli studenti delle superiori. Io adesso faccio il quarto anno e riguardo a quello che abbiamo detto prima della scelta poi anche dopo gli studi credo che sì, un libro possa anche fare la differenza in certi casi ma credo che già la scelta della scuola di per sé evidenzi poi in molti casi quello che l'alunno di fatto preferisce studiare anche se nella mia classe per esempio ho notato che molti che si erano iscritti ad esempio allo scientifico hanno poi espresso un particolare piacere nello studio delle materie classiche. Dunque niente, è stata un'esperienza gradevole la ripeterei, in particolare anche in quanto i testi proposti sono veramente interessanti e a qualcuno a cui piace leggere può far piacere insomma avere una lista di possibili libri futuri dunque io vi ringrazio anche e soprattutto per questo. Bene, grazie a te Gabriele per l'intervento e per la partecipazione ecco tra l'altro colgo l'occasione per dire ai colleghi sia insegnanti sia membri diciamo della commissione che noi siamo già al lavoro per individuare la cinquina della prossima edizione quindi 2023. Quindi chi ha delle proposte, chi ha letto dei libri che ha trovato particolarmente interessanti sul sito del premio Asimov c'è la possibilità appunto di segnalarli e quindi poi verranno valutanti e presi in considerazione perché ovviamente è importante la selezione della cinquina proprio perché si devono individuare libri che presumibilmente possano incontrare così il gradimento dei ragazzi chiaro che se un libro è troppo ostico lo si esclude perché chiaramente avrebbe l'effetto controproducente nei confronti dei ragazzi li traumatizzerebbe in qualche maniera quindi è una scelta abbastanza delicata. Bene, c'è qualche altro studente o studentessa che vuol dire la sua nessun altro? Sì, io, buongiorno Ciao Laura Grazie Volevo dire riguardo al fatto, all'argomento di cui abbiamo parlato prima che l'ampliamento proprio culturale che questi libri hanno dato è stato molto per esempio io sono di quarta e ho già le idee abbastanza chiare ma comunque questo libro, io ho letto la sfruttata bellezza del cosmo è stato molto 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 gradevole perché comunque l'ho anche poi fatto comprare in casa l'abbiamo letto in casa e abbiamo acquistato anche un altro volume sempre della cinquina e sono stati veramente piacevoli e quindi anche per un ragazzo che ha già le idee chiare e quindi magari si è già iscritto in un istituto per cui ha già un futuro abbastanza delineato è sempre cultura che entra e che fa bene e fa piacere quindi mi è piaciuto molto partecipare al premio e ringrazio tutti Bene, grazie a te Laura dicevi che hai già le idee chiare sul tuo futuro ci puoi dire vorrei fare architettura oppure comunque seguire riguardo la storia dell'arte architettura, mi interessa parecchio Bene, bene Ok, grazie Grazie a voi Qualcun altro? Mi chiamo Mattias Busacca e ho letto come libro per le storie delle aziende scienze e volevo dire che è stata un'attività particolare ecco perché comunque non sono libri leggeri ecco che uno si metterebbe a leggere così tanto per sono dei libri che richiedono un attimo di impegno un attimo di concentrazione nel leggere ovviamente senza esagerare e quindi ho trovato interessante il dover appunto leggere molto attentamente questi libri per poi appunto creare una recensione intorno a questi e appunto questo libro per le storie delle aziende scienze mi è piaciuto perché magari era un po' pesantuccio ecco sempre per ritornare a questo problema per così dire però era molto organico era molto ben strutturato e quindi da questo punto di vista mi è piaciuta come attività ecco Bene, grazie però aveva il vantaggio di essere abbastanza ridotto come dimensioni Sì, quello sì però comunque nel suo era molto completo ecco L'argomento chiaramente è finito Comunque grazie a tutti per la possibilità di aver potuto fare questo progetto Grazie a te per aver partecipato Mattias Qualcun altro? Vorrei prendere la parola Ciao Monica Sono Monica Salvetti del liceo Aprovio e anche io ho letto breve storie delle pseudoscienze e ne consiglio la lettura soprattutto a tutti quegli alunni che fanno parte di corsi scientifici proprio perché aiuta a vedere la scienza sotto un punto di vista diverso rispetto a come si fa normalmente a scuola e quindi l'ho trovato veramente interessante anche perché nonostante fosse abbastanza complicato sotto alcuni punti di vista anche come sintattica l'autore proprio conduce il lettore mano a mano nella lettura e per questo è stato veramente gradevole da leggere e lo consiglio vivamente e al tempo stesso ringrazio anche per averci dato la possibilità di partecipare ad un concorso simile Bene, grazie a te Monica per aver partecipato e per il tuo intervento C'è ancora qualun'altro? Io sono Valentina Fusco del liceo Aprovio e ho letto il teore matematico e a me questo libro è piaciuto molto perché mi piace molto leggere e in particolare mi piace di fantasy e quindi questo tra la cinquina era il libro che più si avvicinava ai miei busti e poi mi è piaciuto il fatto che spieghi la matematica in un modo diverso e quindi può anche essere un libro che può essere letto magari anche da persone adulte che hanno un ricordo della matematica legato solamente alle ore passate a fare degli esercizi e quindi questo qui può essere un libro che può essere letto anche da loro per rivalutare la matematica e quindi a me è piaciuto molto il progetto in generale e quindi ringrazio tutti quelli che hanno aiutato a fare questo progetto Ottimo, grazie a te Valentina qualche altro intervento va bene, mi pare che non ci sia nessun altro che voglia intervenire ok, mi pare di no dunque non so Giovanni se volevi aggiungere qualche cosa tu ah no, devo dire la verità che appunto come anche l'anno scorso anche quest'anno devo dire che i commenti dei ragazzi poi un pochino si ripetono il che ci fa piacere perché poi alla fine confermano quello che è il nostro che è l'obiettivo del premio fondamentalmente cioè avvicinare, interessare far sì appunto che poi alla fine è come come si dice in queste cose no, è un seme il fatto che loro abbiano la possibilità o lo facciano in questo concorso poi magari gli darà modo di poter apprezzare questi libri o questo genere di libri o in generale la scienza anche fuori da quello che è il il semplice premio Asimov che gli ha dato questa possibilità mi è sembrato di percepire un po' questo cioè che i ragazzi anche nelle loro brevi interventi comunque sono tutti entusiasti o comunque a chi mi sia piaciuto o forse quelli a cui non è piaciuto non sono intervenuti per cui alla fine questo mi fa molto piacere perché sembra confermare quello che è il nostro obiettivo fondamentalmente sì, sì, anch'io ho avuto la stessa percezione quindi fa piacere vedere che da parte dei ragazzi il riscontro sia positivo noi ci crediamo in queste cose per cui investiamo energie perché riteniamo che sia utile cercare appunto di avvicinare i ragazzi al mondo scientifico e quindi quando constatiamo che da parte dei ragazzi c'è una risposta positiva non possiamo che essere soddisfatti e questo ci spinge anche a continuare in questa direzione bene, non so se qualcun altro dei colleghi voleva aggiungere qualche cos'altro altrimenti penso che possiamo anche avviarci alla conclusione se posso posso dire prego, prego no, volevo anche segnalare un aspetto che non è stato sottolineato che però almeno per i ragazzi è stato importante anche per la partecipazione cioè il fatto di far rientrare questa attività all'interno del PCTO perché noi come scuole, come licei come sapete insomma a differenza di alcune scuole tecniche che hanno anche una tradizione insomma molto più ampia come anni di attività anche di collaborazione con il mondo del lavoro effettivamente all'interno del liceo si è fatto un po' più fatica a trovare dei percorsi che fossero sia significativi ma anche collegati effettivamente al loro percorso scolastico effettivamente questa attività si inserisce bene e mi pare che gli studenti abbiano anche apprezzato appunto questa cosa che poi possa essere riconosciuta come attività accompagnatoria al loro percorso scolastico perché come sapete il PCTO è anche uno degli argomenti per esempio che si deve presentare all'interno dell'esame di Stato e quindi se per qualcuno di loro effettivamente la lettura di questo libro di un libro può aver rappresentato uno stimolo per un approfondimento questo potrebbe essere ripreso anche in quinta all'esame di Stato poi non me ne vorrà ma colgo l'occasione per sottolineare il fatto che è qui con noi ma non so se voglia intervenire c'è la mia collega Giuliana Tasso la quale ha un po' per caso anche lei partecipato a questa iniziativa ha partecipato alle correzioni di numerose recensioni e ha potuto effettivamente divertirsi insomma anche dal suo punto di vista e ha trovato un'attività molto molto interessante ecco e volevo ringraziarvi anche per questo scusate nel secondo intervento no assolutamente grazie anzi ringrazio di aver sottolineato l'aspetto appunto legato al PCTO noi ci siamo concentrati ovviamente più sugli aspetti culturali diciamo però c'è anche l'aspetto pratico insomma il fatto che la partecipazione al premio riconosca i ragazzi 30 ore che non sono poche di attività PCTO chiaramente non è da trascurare ricordo anche che i docenti che hanno aderito possono vedersi riconosciuto un certo numero di ore come aggiornamento professionale quindi non abbiamo avuto la possibilità per questioni tecniche di mettere l'evento sulla piattaforma Sofia però l'INFN poi procederà a ridigere gli attestati anche per i docenti quindi poi vi daremo comunicazioni anche in merito a questo quindi anche per i docenti c'è questo aspetto pratico diciamo che è legato all'aggiornamento bene e poi effettivamente si va a un effetto collaterale è che anche diciamo noi commissione scientifica ci mettiamo a leggere questi libri perché non tutti hanno effettivamente diciamo hanno il tempo magari usano il tempo per fare altro invece così devono dedicare parte del loro tempo anche loro a entrare in questo mondo della divulgazione che è sempre bene per tutti anche per chi è dall'altra parte diciamo sì sì è uno stimolo per tutti tutti quanti siamo attivamente coinvolti e questo non può che essere positivo perché a volte appunto per pigrizia per mille altri impegni che uno ha magari trascura certe cose il premio Asimov in qualche modo ci coinvolge ci obbliga a essere attivi quindi siamo tutti contenti di questo bene non so se qualcun altro voleva aggiungere qualche commento qualche considerazione mi pare di no allora per non tirarla neanche troppo per le lunghe perché insomma abbiamo già oltrepassato l'ora io direi che possiamo concludere l'evento di oggi ringrazio tutti quanti che hanno partecipato io sono molto contento come dicevamo nel vedere che c'è una risposta positiva da parte delle scuole dei colleghi dei ragazzi e questo non può che farci piacere vi ricordo gli eventi che ho già ricordato prima quindi domani pomeriggio la cerimonia chiamiamola così nazionale potete seguirlo appunto sul link di youtube che vi abbiamo comunicato e poi se qualcuno il 20 maggio si trovasse in quel di Torino noi ci siamo e quindi può essere un'occasione per conoscerci di persona quindi non attraverso un video ma finalmente faccia a faccia quindi spero che qualcuno di coloro che hanno partecipato abbia la possibilità di venire a Torino e niente non mi resta che ringraziare di nuovo tutti quanti per la collaborazione per la partecipazione e spero di rivedervi anche nell'edizione 2023 del premio Asimov e noi continueremo a lavorare quindi ci fa piacere avere il vostro supporto e la vostra collaborazione grazie a tutti veramente non so se vuoi aggiungere qualcosa a tutti ci salutiamo e come si suol dire quindi alla prossima grazie a tutti buonasera grazie grazie buonasera e naturalmente tanti complimenti ai ragazzi questo è scontato ma l'abbiamo già detto ma è bene sottolinearlo abbastanza grazie a tutti ciao ciao buonasera grazie grazie a tutti grazie e buonasera grazie a rivederci buonasera a tutti grazie ciao si fa Anna rivederci ciao Anna grazie ciao ciao vabbè io direi che fermo la registrazione sì direi di sì tanto poi la tagliano e la si si colgono la parte iniziale esatto magari dei tempi morti all'inizio esatto bene Giovanni grazie anche a te per la consueta collaborazione più guardati Silvano è sempre un piacere ho alcune vista tecnico e niente ci aggiorniamo allora magari ci incontreremo anche noi prima o poi di persona tra l'altro siamo da Genova tutti e due qualche giorno